Vai, opla! Ma voi sapete la plastica da dove arriva? O da che cosa si fa? Sì! La petrolio arriva. Il petrolio. Che è una sostanza naturale oppure è una sostanza che ha inventato l'uomo? È una sostanza naturale. L'uomo è nato. E qui è anche questo. Il petrolio è una sostanza che si forma in tempi lunghissimi, ma proprio lunghi, lunghi, lunghi. Però è una sostanza naturale, ok? Poi è l'uomo che la prende, vero? E la utilizza per tutto. La utilizza ad esempio per far muovere le macchine. Io praticamente nel petrolio ci sono tante di queste molecole, una diversa dall'altra, che vengono utilizzate per fare le plastiche. Praticamente questo tipo di plastica qua è fatta staccando questo, vedete questo legame che c'è qua, grigio? Ovviamente questa è una cosa che fa l'uomo, va bene? Per riuscire ad avere le plastiche. Lo stacca e lo fa attaccare ad una molecole uguale a questa. E fa una catena. Lunga, 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 lunga. Così. Questa è una palla della catena. Ecco, la plastica è rotella e fa tanti tanti. Catene invece una affianca all'altro. Ci troviamo presso il Centro Educativo Ambientale Nazionale di Barazzi, in compagnia dell'assessore alle politiche ambientali del Comune di Sassari, Monica Spanedda. Assessore, un commento circa questa iniziativa? È un'iniziativa che noi giudichiamo molto importante perché i primi destinatari sono i bambini, quindi nell'età dello sviluppo, che avranno la possibilità di approfondire la vita e la nuova vita di materiali quali alluminio, plastica, carta e vetro. L'obiettivo della mostra è quello di far capire loro quali sono le materie prime che poi formano questi materiali e soprattutto come possano essere impiegati piuttosto che finire nella discarica. Oltretutto una riflessione che vogliamo fare insieme ai bambini è quella sullo sviluppo sostenibile, sul consumo consapevole. Nel senso che molto spesso oggi la vita degli oggetti è legata fondamentalmente ad un battito di ciglia determinato dalla pubblicità. Il concetto invece è che gli stessi oggetti possano essere riciclati, recuperati e donati ad altri e dotati di nuova vita è un aspetto che ha una valenza educativa molto importante. Quindi noi coinvolgendo le scuole soprattutto e poi anche gli adulti nel fine settimana contiamo proprio di sensibilizzare la popolazione alle tematiche dei rifiuti e del riciclaggio, anche perché a Sassare è un problema estremamente sentito. Ci troviamo con Adriana Casu, curatrice della mostra insieme a Lucia Ligios. Volevamo un commento su questa mostra, come è nata quest'idea, la sua progettazione. La mostra è nata perché volevamo supportare il lavoro che l'assessorato di appartenenza del nostro centro, il centro di educazione ambientale di competenza dell'assessorato ambiente e l'assessorato ambiente che ha la competenza anche per i rifiuti voleva che noi pensassimo a qualcosa che supportasse l'operazione della raccolta differenziata. Abbiamo quindi concepito questa mostra pensando ai quattro materiali che per antonomasia sono quelli destinati alla raccolta differenziata e al riciclo. Dunque la carta, l'alluminio, la plastica e il vetro. Sono i quattro materiali che i cittadini di Sassari normalmente conferiscono negli appositi contenitori e vengono poi destinati al riciclo. Però noi volevamo che i ragazzi, che i bambini facessero il percorso partendo dalle materie prime. Quindi nella mostra si troveranno le materie prime dalle quali si parte per poi arrivare all'oggetto che verrà poi consumato. Una sezione della mostra è destinata proprio al tema del riciclo con l'esposizione di alcuni materiali prodotti dalle aziende esclusivamente con materiale riciclato e che sono reperibili normalmente in commercio perché anche le industrie si stanno adeguando e quindi utilizzano sia le industrie che utilizzano l'alluminio che quelle del vetro, che quelle della plastica, che quelle della carta utilizzano prevalentemente materiale riciclato perché è anche più economico.